Assessore Cuzzi, Movida, Pescarese, nella zona di via Cesare Battisti, residenti protestano ormai da giorni. L'amministrazione comunale e l'assessore in particolare cosa dice? Noi abbiamo attivato una serie di interlocuzioni sia con i residenti sia con gli operatori commerciali che insistono in quella zona che da qualche tempo è dedita all'intrattenimento, al divertimento, soprattutto nelle ore serali. Si tratta di trovare una mediazione tra quella che è la legittima esigenza dei residenti al riposo e alla tranquillità e quelle che sono le aspirazioni di imprenditori che comunque hanno investito a quella zona. Noi vogliamo riportare l'ordine e la tranquillità, nel fare questo vogliamo rilanciare il centro della città senza spegnere le luci del divertimento, della Movida e dell'intrattenimento perché la nostra città ha anche una vocazione importante legata a questo e c'è anche un'economia importante legata a questo però dobbiamo riportare le regole sicuramente in settimana dopo i controlli fatti venerdì e sabato sulla zona sicuramente in settimana prenderemo dei provvedimenti che comunque andranno a disciplinare orari, vendita e somministrazione. Esiste o no un problema Movida a Pescara? Ma guardi non è che esiste un problema Movida, il problema è un problema molto più complesso c'è una fascia soprattutto di giovanissimi che escono la sera per sfogare una rabbia sociale su questo un'amministrazione comunale deve intervenire ma non può intervenire da sola. Per quanto riguarda poi gli incidenti, le risse e altri episodi sicuramente l'amministrazione comunale può disciplinare gli orari ma poi ci vuole anche l'ausilio delle forze dell'ordine perché ci sono dei fenomeni particolari su cui noi non possiamo intervenire.